I primi dieci anni era solo lavoro, 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 non mi interessava nulla di nient'altro, amici, non amici, non mi interessa, sì, lavoro. Queste cose cominciano ad avere un certo peso nella scelta, perché? Perché la famiglia diventa, cresci con l'età. Dopo cominci a capire che le cose importanti magari possono essere altre, cioè non solo quello, e comincia a pesarti il dover abbandonare la famiglia per andare a lavoro. E quindi quell'aspetto preciso ha influito nella scelta di dire, azzardo qualcos'altro, provo a giocare in un altro mercato. E la cosa bella è che è stata forse la scelta, non forse, è stata la scelta giusta per ambe e due gli aspetti, sia quello professionale che quello familiare, perché ovviamente il tempo che ho a disposizione adesso, lavoro comunque tanto, però se oggi dico sto a casa con mia moglie, io sto a casa con mia moglie.